Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Secondo appuntamento con la mia piccola rubrica da giocatore a giocatore, dato che oggi voglio parlarvi di un altro titolo che mi ha interessato durante questo periodo, ovvero Atomic Heart. Atomic Heart, che ho giocato esclusivamente su PC con la versione Game Pass, dato che era disponibile per l'appunto al Day One con Game Pass, devo dire che è stata una piacevole sorpresa. Un gioco con probabilmente una trama e dei riferimenti che in questo periodo storico forse risultano essere un po' pesanti da un certo punto di vista, per quanto riguarda solamente l'aspetto politico, ma credo che comunque lo sviluppo di questo gioco sia stato finalizzato non tanto per marcare la situazione politica attuale per quanto riguarda Russia, Ucraina, eccetera, ma semplicemente perché la trama si concentra su un universo distopico. Cioè più che altro è una sorta di futuro distopico dove appunto è stata l'Unione Sovietica a vincere la Seconda Guerra Mondiale e quindi di conseguenza riuscire a svilupparsi dal punto di vista tecnologico e strutturale in maniera talmente elevata da riuscire addirittura a creare una intelligenza artificiale, una sorta di intelligenza artificiale che ha permesso poi successivamente la realizzazione di androidi e robot in generale che aiutano nel quotidiano le persone che ovviamente vivono all'interno dell'Unione Sovietica. E' un gioco che ovviamente presenta meccaniche come roaming, quindi esplorazione di una mappa aperta e un FPS, ovviamente mettendolo probabilmente come primo punto cardine di tutta questa pseudo recensione perché appunto chi non riesce a giocare gli FPS e chi non ha facoltà di poterlo appunto approfondire nel miglior modo possibile a causa di disturbi o problemi personali, dato che comunque molti dei ragazzi che mi seguono mi hanno confessato di soffrire di motion sickness, quindi non avere comunque la capacità di poter stare dietro a un gioco abbastanza frenetico come quello che possa essere Atomic Heart, giustamente si interfaccia con giocatori che riescono ovviamente a sopportare tutto questo. Il gioco devo dire che mi ha piacevolmente colpito e anche piacevolmente sorpreso, non solo dal punto di vista grafico, che comunque secondo me è stato espresso nella miglior maniera possibile, ma per quanto riguarda il modo in cui è stato concepito il gioco. Che vuol dire? Il gioco, come vi stavo dicendo poco fa, presenta la possibilità di essere esplorato con mappa aperta, quindi un mondo aperto, e la possibilità di raccimolare risorse per poi costruirsi gli oggetti. Costruirsi oggetti come armi, munizioni, medikit, potenziamenti, eccetera eccetera. Questo aspetto sinceramente mi ha spaventato all'inizio, dato che giocando a titoli, non dico survival perché non lo posso inserire nella categoria survival, dove praticamente hai a disposizione due proiettili per la pistola, e questi proiettili praticamente devi utilizzarli alla fine del gioco, possibilmente. Qui su Atomic Heart fortunatamente anche alle difficoltà più elevate, dato che io l'ho giocato a difficoltà massima, ti consente comunque di avere una buona quantità di munizioni, una buona quantità di medikit, se ovviamente ha intenzione di esplorare, e quindi il giocatore viene premiato anche per la sua fame di esplorazione, chiamiamola così. E questa è una cosa che sinceramente mi è piaciuta molto. Uno però dei punti che probabilmente mi ha fatto odiare questo sistema di gioco è il fatto che uno non abbia un salvataggio automatico, quindi sarete costretti a cercare le varie sale a disposizione con la macchina di salvataggio e la macchina di power-up per salvare la vostra partita, e purtroppo non so se è successo soltanto a me o comunque è successo anche ad altri giocatori il fatto che la mappa non sia stata ottimizzata al 100%, dato che mi ritrovavo spesso e volentieri buggato e clippato all'interno di alcuni monti, di alcune rocce, di alcune fessure, di alcuni intercapedini, che praticamente mi impedivano di potermi muovere all'interno della mappa. Quindi costringendomi a ricaricare la partita e facendomi passare letteralmente la voglia, dato che i salvataggi che comunque andavo a fare non erano sempre dietro l'angolo e quindi mi costringevano a dover ripetere sessioni di gioco per ritornare allo stesso punto di prima. Quindi diciamo che questa cosa un pochettino mi ha frustrato in alcuni punti, che mi ha anche fatto prendere una pausa dal gioco, però poi fortunatamente essendo comunque il titolo a mio avviso abbastanza valido, mi ha permesso comunque di poterlo continuare. Devo dire che per il resto, per quanto riguarda ovviamente tutta la struttura del gioco, a me gli FPS non dispiacciono, se devo essere sincero, quindi mi sono trovato anche abbastanza bene a giocare in questo caso con appunto un first person shooter. Le munizioni che fortunatamente non sono risicate ti consentono comunque di esplorare la mappa quasi totalmente in maniera competente, proprio perché hai la possibilità di poter affrontare tutti i nemici che ti si pareranno davanti. C'è la possibilità ovviamente di spostarsi anche con le auto che saranno identificate con il colore rosso, ovviamente, quindi tutte le auto di colore rosso potranno essere utilizzate e successivamente abbandonate e riutilizzate all'evenienza. Ottimo il sistema di inventario, ottimo anche il sistema di deposito, che ti consente comunque di poter craftare e anche smontare gli oggetti che trovi e anche le armi o in generale tutte le sostanze che si riescono a trovare in giro per la mappa, permettendoti di ottenere delle risorse, risorse preziosissime per craftare le munizioni, per craftare le armi, per craftare tutto quello che ti serve. Sistema di power-up anche abbastanza interessante, molto semplice e intuitivo. Devo dire che per quanto riguarda tutto il menu, per quanto riguarda anche i potenziamenti, eccetera, eccetera, mi sono trovato veramente bene. Il menu di gioco, che ti consente comunque di avere delle diverse finestre dove poter effettivamente craftare le armi, potenziarle, craftare le munizioni, eccetera, eccetera, l'ho trovato molto ordinato, molto schematico, cosa che a me piace tantissimo, soprattutto in questo tipo di gioco e quindi mi hanno permesso comunque di avere subito familiarità con i comandi, subito familiarità con le meccaniche e mi hanno permesso comunque di poter esplorare al massimo anche questa tipologia di gioco. Un'altra cosa che invece forse devo mettere tra le note negative è il fattore stealth, dato che comunque nel gioco è possibile anche affrontare o comunque è anche possibile comunque interfacciarsi con una tipologia di gioco stealth, dove appunto si possono sconfiggere istantaneamente gli avversari prendendoli alle spalle, cosa che forse è causata anche dall'eccessiva difficoltà è quasi impossibile da fare, perché praticamente gli avversari, in questo caso il robot o in generale anche gli umanoidi che si vanno a trasformare successivamente, riescono ad individuarti a distanze chilometriche. Io a volte anche nascosto nell'erba con tutta la possibilità di potermi nascondere, non so effettivamente come venissi, cioè non ho l'idea di come potessi in un qualche modo essere scoperto così dal nulla, perché mi ricordo che praticamente giravo tondo anche messo in mezzo all'erba e all'improvviso sentivo i robot che partivano e iniziavano ad attaccarmi, quindi diciamo che su questo fattore forse, non lo so, ci sarebbe qualcosina da sistemare, è anche vero che comunque robot giustamente hanno la possibilità magari di vedermi tramite sensori infrarossi o sensori termici e tutto quello che volete, però a questo punto non darmi la possibilità di giocare stealth rendimi il gioco totalmente frenetico, totalmente action e allora lì diciamo che posso anche accettare la situazione. Ma questo è più forse un mio, come dire, forse un mio concetto di stealth, perché comunque a me piace anche approcciarmi in maniera diversa al gioco, quindi non per forza sparare e andare dritto e sparare come un pazzo alla Doom, per renderci chiaro, però data la possibilità di avere lo stealth sicuramente l'avrei sfruttato un po' di più. Altra piccola nota negativa che metto nel gioco è il combattimento corpo a corpo, che purtroppo è abbastanza confusionario e non preciso in alcune situazioni, dato che comunque bisognerà averci a che fare per tutta la prima porzione del gioco, quindi riuscire ad abituarsi alla meccanica del combattimento corpo a corpo forse non è la cosa più bella del mondo. Devo dire che però lo stile e anche tutto quello che si riesce a fare all'interno è assolutamente apprezzato, l'ho assolutamente apprezzato, anche le skill che si possono apprendere, tutte le abilità che si possono sfruttare contro nemici sono sempre molto 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 interessanti, però per quanto riguarda il combattimento corpo a corpo purtroppo hai una fortissima perdita dell'orientamento a causa anche delle schivate che sono provocate da questi movimenti improvvisi con sbalzi di telecamera che a volte non si riesce neanche a gestire, quindi direi che da questo punto di vista secondo me forse poteva essere sistemato con un target lock o comunque con la possibilità di indicarti dove è il nemico dopo aver effettuato la schivata, anche perché succede che tante tante volte effettua la schivata, spawna un nemico alle spalle, mi colpisce e io non vedo appunto l'indicatore che mi dica per l'appunto che sto per ricevere un attacco alle spalle, quindi diciamo che da un lato ho trovato il combattimento corpo a corpo forse un po' raffazzonato, ma per quanto riguarda il resto ovviamente mi sono trovato abbastanza bene. Non ci sono tantissime armi, fortunatamente, quindi si potranno craftare comunque diverse armi da poter utilizzare nei diversi slot di equipaggiamento, però non ce ne sono tantissime e questo secondo me è comunque una nota positiva perché per i più completisti, me compreso, si sarebbero messi a girare tondo pur di ottenere tutti i materiali per farsi tutte le armi, mentre invece le armi si riescono a craftare e si riescono ad ottenere in maniera progressiva durante tutta la storia del gioco, quindi basta un po' di esplorazione in più, basta un po' di curiosità in più a entrare in una casa, cercare in un baule eccetera eccetera per avere comunque tutti gli schemi delle armi e soprattutto avere anche abbastanza risorse per potersele craftare. Ovviamente a difficoltà più alta si avranno meno materiali, quindi si avrà un po' più di fatica nel craftarsi le armi, però vi posso assicurare che neanche a metà gioco io già possedevo comunque tutte le armi, tutti i progetti e tutto quello che era possibile ottenere nella sua esperienza di gioco. La trama devo dire che comunque è particolare, classica però diciamo vista e rivista del classico cattivo che si maschera come buono, che poi viene svelato come cattivo eccetera eccetera, però non voglio assolutamente entrare nel dettaglio per evitare gli spoilers e quindi permettere a tutti di potersi interfacciare con questo titolo. Ripeto, ho giocato la versione Xbox, anzi Game Pass, Microsoft Game Pass, assolutamente consigliato come titolo, soprattutto dato che essendo un gioco incluso nel Game Pass è gratis, tra virgolette, quindi potrete scaricarlo e giocare fin da subito, quindi veramente molto 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 consigliato, divertitevi, fatemi sapere ovviamente se c'è qualcos'altro che volete sottolineare di questo gioco, aspetti negativi o positivi, in modo tale che poi chi guardi magari questo video possa effettivamente essere d'accordo o in disaccordo con quello che viene detto da me o con quello che viene detto da voi e detto ciò, noi ci vediamo settimana prossima con un altro titolo, bye bye! Grazie a tutti!